La press, la ONG kurda Ingo ha diffuso un video delle telecamere di sicurezza della stazione della metro di Teheran in cui gli agenti della polizia morale iraniano trascinano la sedicenne, armita a Garavand, in stato di incoscienza fuori dal vagone. La ragazza è ricoverata in coma. Secondo la ONG è stata aggredita dalle poliziotte perché non indossava il velo. Le autorità della Repubblica Islamica smentiscono la dinamica e parlano di uno svenimento della ragazza che poi avrebbe battuto la testa. L'agenzia di Stato Irna ha trasmesso un'intervista ai genitori di Armita in cui dicono di accettare la versione governativa e parlano di un incidente. Intanto è stato impedito a chiunque, anche ai parenti, di entrare nella struttura sanitaria della capitale dove è ricoverata la giovane. Mentre una giornalista del quotidiano riformista Shard, Marion Watphy, che ha cercato di ricostruire la vicenda, è stata arrestata e poi rilasciata.